Sì, sicuramente è un'emozione bellissima, poi in casa soprattutto. So che si aspettavano la capriola, ma tornando da un infortunio non me la sono sentita, però mi fa piacere che abbiamo accesso alle fasi ai quarti e tra tre giorni abbiamo subito un'altra gara, quindi testa subito a domani che ci alleniamo e alla prossima partita. Contro l'Alfa Terna come ci è arrivata a livello fisico e anche mentale? Mentale bene, perché comunque vieni arrivando da una vittoria e arrivi positivamente con la testa, quindi bene fisicamente, giustamente. Abbiamo fatto un po' di turnover oggi, quindi la squadra abbiamo un organico abbastanza largo, quindi il mister saprà come fare. Grazie per la visione!